Buonasera, per il servizio lo sai e chiama ora di team, premi 0. Per chi è di team, premi 1. Per la segreteria telefonica. Non appena la persona torna contattabile, oppure ti consente di prenotare la richiamata automatica. Il servizio a tempo indeterminato è per tutti i clienti team, gratuito fino al 20 luglio 2014. A partire dal 21 luglio 2014, il servizio è fruibile a 1,90 euro da inclusa ogni 4 mesi, con addebito su credito residuo. Per disattivare il servizio lo sai e chiama ora, premi 1. Per terminare la chiamata, premi 9. La tua richiesta di disattivazione è stata presa in carico. Potrai continuare a utilizzare lo sai e chiama ora gratuitamente per un altro mese. Alla scadenza, il servizio verrà disattivato automaticamente senza l'addebito di alcun costo. Ti ringraziamo di aver utilizzato il nostro servizio. Buonasera.